Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. Recentemente, l'Italia è stata testimone di un evento tragico che ha coinvolto una coppia scomparsa, generando giorni di ricerche frenetiche e angoscia crescente tra i familiari. Un massiccio sforzo di ricerca si è concentrato sul rintracciare gli ultimi movimenti della coppia, residente nel nord del paese. La coppia era scomparsa volontariamente, viaggiando con l'auto dell'uomo e smettendo bruscamente di dare segnali. Un aggiornamento recente ha rivelato una scoperta scioccante. Un biglietto lasciato dalla coppia chiariva le motivazioni dietro il loro gesto drammatico. Dopo una ricerca estenuante, la coppia, originaria di Brescia, è stata trovata senza vita nel garage della loro casa in via Bartolomeo Montagna. Sono vita di Buono e Luigi Buccino. Era stato il padre della donna, preoccupato dalla sua assenza nell'andare a prendere i figli affidati con l'ex marito, a segnalare per primo la loro scomparsa. La donna, 39 anni, aveva una relazione con un uomo di Brescia di 57 anni, che condivideva con lei simili disturbi psicologici. La tragica scoperta è avvenuta dopo che i vicini avevano segnalato alle autorità un odore insopportabile proveniente dal garage. All'arrivo delle forze dell'ordine, la coppia è stata trovata priva di vita all'interno dell'auto dell'uomo. Avevano assunto una dose eccessiva di antidepressivi e successivamente si erano avvelenati con i gas di scarico dell'auto, collegando il tubo di scappamento all'abitacolo. Sono deceduti per asfissia in pochi minuti e sono stati ritrovati abbracciati.